ragazzi sulle basi di kenil guerriero parte la finalissima dello svedische rulles finalmente dopo quattro anni ma è un simbolo del ludu scudo prima partita fantastico come minimo ci sono i diritti e ci bloccano il video non ci vuoi niente io ragazzi mi sono collegato un momento per vedervi verrai bannato mi dispiace siccome ero più alto di svizzera io credo che stasera comincerò ok 1 2 3 1 2 3 e tu bro mi fai 2 3 1 2 3 1 si ok 2 3 accendi c'è tutto accendo si ragiona un secondo non La terra che tremò Grazie a tutti Avevo bisogno Vabbè Facciamo una cosa Prova a tenere Guardo Vai vai Riro vai Ok Io faccio Isola passo Esco Andrà Ok Non ho capito Scusami Passo Ok non ho capito Esco Non ti preoccupare Io qua Allora Andiamo Isola Isola Carciofo 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 Passo Esco Io giocherei una streetman E puoi andare Pesco Pesco Sì Così Ragazzi Passo Allora Che hai fatto Pesco passo Arrivo Pesco passo Quindi tu hai un carciofo Un'isola E hai fatto Pesco passo Pesco passo Pesco passo Pesco passo Pesco passo Ok Pesco Puoi andare Fine turno Sì Vorrei sparare un disinchant Sulla mox Ci penso Un disinchant Sulla mox Carte in mano Quanto ne hai bro? Dopo il disinchant Me ne restano 6 6 con il chiamante Vabbè L'hai fatto Ok Vai pure Untap Draw Sacrifico C'è Ray blue Serendib Spenso Serendib Ok Serendib Serendib Impila Serendib Impila Serendib Impila vorrei farci un canterino è entrato serendib allora passo stato pesco e con tre vorrei fare un caos orb e attivarlo sul serendib addio serendib e puoi andare untap che cazzo passo stato pesco gioco una brass e direi che puoi andare pesco passo pesco anch'io si gioco una miscia e direi che faccia sta cosa probabilmente si vorrei togliere il bianco prendo blu vado in combat ovviamente vado a 19 perché prende un danno dalla brass vorrei fare un tomo vai ok vai a 19 io mi segno solo i miei se tu ti metti i tuoi così guarda gli occhio qua di fianco sei 19 a 20 eh no dico mettilo un po' più al centro così le persone vedono i punti vita non so se ci sta allora io ti ho spiegato un serendib quindi tu sei a 23 ah ok perfetto non metterò manco segnati fantastico non metterò manco segnati non è stata una spiga ragazzi era un caosor si scusa hai ragione hai ragione scusami pensa non so perché ero convinto di averlo spiegato siamo tesissimi vai 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 bro puoi andare è il segreto che posso andare spesco eh eh vabbè vado in discard si vai ok stappo pesco bella questo g1 gioco un mare e direi che vai passo spesco eh eh discard si per 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 scusa scusami prima pesco di tono si e va bene discard carto si vai stappo pesco tu sei messo così direi che puoi andare pesco vabbè ya va bene abbiamo capito abbiamo capito abbiamo capito abbiamo capito sempre prima della discard faccio tomo in caso si 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 io vado in discard prima testo ok scatto l'angelo si stappo pesco si gioco miscera e tu hai un isola 3 4 5 6 7 sono così così e direi che ti attacco intanto per due 18 e vai passo andrò 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 tanto oramai guida così scarto c'è 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 scusami cosa che ho visto è mindwist mindwist si stappo pesco 2 3 4 5 6 7 8 carte 8 carte penso un secondo ho 10 miliardi di carte io 10 miliardi penso un secondo due punti di mano questo punto facciamo così visto che te sei un po' impallinato è un pochettino picchio per 4 14 va da 14 1 2 3 4 5 6 7 8 carte vado in discard scarto un mirror universe vai pure un utilissimo mirror universe pesco di turno ma la terra e manco a pagarla minchia oro scarto scarto cioè vai in disca si si va bene e passo stop 8 carte a sto punto di pensare un attimo che fare che fare ti vengo a trovare sempre per 3 4 dai 10 sono a 10 3 4 5 6 7 8 carte penso che andrò in discard anch'io scarto un abisso vai pure pesco di turno vado in discard se con cartetto scarto una quantità di carte cucinante o pescato continuiamo a attaccare andiamo a 6 ok 5 6 5 6 7 8 carte vado in discard penso cosa togliere una fattoria a terra così dopo mi finisce un divine offering e poi andare mannaggia pesco a un box melo counteri no ha addirittura dice tu oramai anche questo è vero tanto è pure un box blu tra l'altro ma si che ce n'ho fatto oramai orb fai un orb per nessuna seconda fai un orb farei mana drain prendendo un danno vabbè ti ho portato a 18 passo stacco pesco gioco terra aggiungo i tuoi due mana ti faccio fireball sì 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 la prima è andata via male male e che spacci ma è che sangue della madonna proprio ho pescato 8 miliardi di carte all'inizio ero rimasto anch'io fermo di terre perché ero rimasto quando tu mi hai spaccato il mox avevo non avevo l'anda in mano avevo anch'io solo tra fonti di mana solo che dopo io l'ho vista e tu non hai più visto niente vediamo accendino aspetta che faccio il prestito anch'io una due e tra questa parte la una e tu mi vuoi allora a dimmi dimmi come preferisci se vuoi dimmi prima tu boh fammi quella in mezzo sopra 2 3 1 va bene 2 3 1 quindi prima 2 3 accendino questa volta invece mi fai 3 2 1 questo giro se non sbaglio inizia certo bocca al lupo ma mazzata che ha subito non solo parto io ma pesco 3 carte in più e guadagno 10 punti vita india un milano per la macchina prima capi ok però vediamo cosa mi dici da io ci provo andrei questa qui è per te tundra carciofo serendip leone parola quindi forse qui non ci sono vado e io allora faccio tundra mox bianco mox nero e farei caos sordo flippato sul serendip e direi che puoi andare andata combat 18 leone ma però si strip si vai esco fare una city of brass e direi che puoi bellamente andare attacco per 4 da 14 giocere una pianura prendo un danno mela da 13 ma una verde e chi vorrei fare un regolo ok target calzardo si un secondo un carto in mano le al 3 Vai, passo Untaff Draw Combat Attacco per 4 Va da 9 Va bene Il cugino di questo qui Vai Non è quello che mi serviva Faccio anello Faccio caos orb e attivo caos su un leone chiaramente Indifferente no? Si è uguale E poi puoi andare E poi puoi andare E poi puoi andare Ok Untaff Draw Combat Sì Da 5 Passo Untaff E drop Allora Io Prendo Un Danno Da Mana rosso Vado a 4 E vorrei fare una fireballo sdoppiata sui due leoni Che cazzo Che cazzo Va bene E poi puoi andare Questo non ci volevo Pesco Pesco E tu moto fai perè Va bu Va bu Va buono qua Mare Flux F*** Va bene Vai Aspetta F*** F*** Mi sembrava Mi sembrava un serendipi scusami No Pesco Faccio un mare E passo Vai Untaff Scusami Entro No Problema Tappo 3 Flux Penso un attimo Carte mano quante ne hai? Sì Tu sei tutto tappato Mi farei un time work Ok Stato pesco Sì Questo inutile E vai Passo Untaff Drop E Passo Pesco Gioco una brass E Vai Passo Pesco Pass Passo Esco Passo Un numero Quanto Si Così Eh Va Passo Esco Passo Esco Passo Esco 6 e vai, passo Pesco Passo Grou Gioco Tundra E direi che può andare Pesco Gioco Nox bianco Si Taffo 5 Si Angelo da Lammella Carte in mano 5 Penso un attimo 5 carte in mano giusto? Corretto E hai 4 lande Perché hai un mox Ma io ti direi Counterspell Sull'angelo Non ti sento più Dani Scusami Ho detto Counterspell Sull'angelo Ok Passo Stacco Pesco Passo Stacco Amore Pesco Bras Certo 3 4 5 6 Vai Pesco 7 carte Passo Vai Pesco Pesco Factory Factory C'è Zapphire C'è Vado a 19 C'è Di bravo Ci sono i due bianchi C'è Selva Ok Ok Passo Carte in mano? 3 3 carte in mano A fine tuo vorrei fare una spada spieghi sull'angelo Stacco 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 Counterspell Farei Counterspell Anche io Eh vabbò 4 Sono più 4 Sono più 4 Sono più 4 per me Sì 23 E Passo Stacco Pesco Ok Ok Ecco C'è 6 Quanto Hai due carte in mano giusto? Giusto Giusto Un secondo Facciamo così Faccio Mox Rosso Mox Blu No Faccio Mox Rosso Scusami E con due farei un Demoniaco Ok Demiaco Ti faccio le tre pilettine o taglio a metà come preferisci? Tutto ciò mangia da autogame Come preferisci dai come preferisci? No dimmi te guardi faccio le tre pile allora guarda Ah fai le tre pile come è ok Ah questa è la cima 1 1 2 3 1 2 3 va bene Ok E la carta l'ho presa che è questa qua Scusa Dani tu mi hai spiegato soltanto l'angelo? Sì Ok Ci guardo un attimo Sì perché di spiega ne ho fatta solo una Perfetto Gioco Mox Blu e farei Ancestral Scusa Va bene Pesco 1 Pesco 2 Pesco 3 Faccio terra di turno che non ho fatto Farei una Tundra Direi che puoi andare Fantastico Stappo 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 Upkeep Assorbo Assorbo Umana Animo Sì Risolvo il flux Sì Vado in pesca Sì Combat Combat Ok Tappo 1 Farei sfiga Su iniscerà Drain Penso un secondo Faresti 3 Carte in mano 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 Ok, guadagno 2 vite. 1,25 Sì, in pratica sì, 25 E... vai Stacco e pesco Gioco una miscela E direi che puoi andare Però ti sono saltati in aria Scusami 2 mox, mi dimentico dei flux Non ti preoccupare Sì, sì, l'avevo già messo in conto che creppavano Vai pure Hunt up Pro Factory Certo Vai Pesco Pesco E... per me come andare Pesco Animo la Factory Sì Sì Vado in combat Ti attacco Vorrei animare la mia amicia La strip Sì In risposta Ok, strip E io ti farei sword sulla tua amicia Un'altra Un'altra Managgia, una miseria Puttana Ok 2 vite a tasca Le 27 Vado a mettere un altro dadino Qua questo è Autogame Catroia Sei la terza Sei la terza Giusto Di spiga Te lo dico Mi sembra di... 1, 2, 3 Sì, terza spiga Terza spiga Ok Terza spiga Ok Passo Pesco E vai Passo Untap Certo Tro Tundra Certo Passo Pesco 3, 4, 5 Carte Vai Passo Pesco Tappo 2 Walk Sì Vado in turno addizionale Ok Tappo Pesco Carte Ne ho 3, 4, 5 3, 4, 5 Nei 3, 4, 5 Nei 3, 4, 5 Vorrei fare una balance Uh Quante carte hai nuova? 2 Vuoi fare qualcosa di risposta? Quanto Non sono tante Penso Penso un attimo Complicata Sta cosa Molto complicata Molto complicata Molto complicato Tocca farci un drain Eh vabbè Ce l'hai tutte Che ti devo dire Ok Vai Stacco Pesco Giusto che cos'è Quanti counter spell E quanti manadrei C'è Quanti manadrei Maadrei Ovviamente Counter direi 3 1, 2 Quante carte Counter in tutto Mi hai fatto 3 counter in drain Ok Quelli 4 4 counter in tutto E 3 spiega in tutto Ok Io ho 2 mana 2 mana Tu hai 2 carte in mana Io appoggio Una Mishra E passo Un tap Ciao Mox Si Pesco Una gioia Ah tu hai messo Mishra nel frattempo Si Tap 3 Si Genio Ok Passo Penso un attimo Tu hai 2 mana Creatura 2 carte in mana Io pesco Si Ma a questo punto Io farei Sta cosa Ehm 1, 2, 3 Ci 5 Carta in mana 2 2 Ha 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 Ma sta risatina Non mi piace Eh Ha 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 La risatina Del cazzo Del cazzo proprio Del cazzo E poi E poi E poi E poi Un casino Un casino Un casino Un casino Tanto Tanto Sadafa E Sadafa Allora Guarda Daniele impazzisce E comincia a parlare napoletano Sadafa Però tu hai una carta in mano Sadafa Che è la casa Sadafa Non c'è problema Quindi facimola E ce lo ammo consiglio E per forza 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 do che fare questa storia qua io vado a 3 e ti procurrei una rap sul genio eccolo lì ok direi che passo una gioia vorrei fare un'acestra dei colli si risolvo 1 2 3 carte? ne ho 4 gioco miscela factory ne ho 4 gioco miscela factory allora passo e nel tuo upkeep vorrei giocare una psionic allora è tua c'è tua e ho preso troppi danni da quei leoni ho preso andrei che sei per te ora posso pure morire contento 3 leoni nei primi turni anzi di primo mi hai fatto leone serendib e io avevo una mano che non era proprio irresistibile la mia purtroppo no no questa è proprio la mano Bud Spencer l'ho visto io eh però ci sta questa è la 3 partirò io certo dimmi pure 3 2 1 mi ha portato bene 1 2 3 e tu mi fai accendino 2 3 accendino 2 e 3 allora 1 2 3 4 5 6 e 7 buona partita fratellino anche a te caro e va va sono soddisfatto mi accendo la candela qui ok proviamo a tenere ok guardo no Dani no 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 vedi il fatto che ti dicevo prima quando vedi i mana giusti io non posso tenere la mano con questi mana qui no no non posso non posso oh guarda che c'era sul fondo la library roll non è io la voglio giocare poi perdo perdo però la voglio giocare non si sta bene i pugni li voglio dare pure io poi anche che vado KO non fa niente almeno ho lottato però essere legato e pestato no quello no no è proprio una fine di merda ok aspetta mi faccio un altro poco di shuffle scusate vai tranquillo vai quello che devi fare voglio stare proprio che non voglio avere rimpianti che non mi schia da abbastanza sai cose così vai tranquillo c'è Fai come prima, accendino, due, tre. Fai come prima, accendino, due, tre. Tengo. Metto sotto questo. Ok. Io passo una brass e poi andare. Pesco. Io faccio un'isola. Passo. Pesco. Faccio una undra e vai. Pesco. Pesco. Plains. Certo. Jet. Certo. Serendip. Penso un secondo ma direi che prendo un danno e faccio un manadreno. Ok. Vado? Sì. 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 Stato pesco. Ho tre mana di drain. Con un mana faccio un anello. Rimango due mana. Io gioco una miscela. Due mana più tre più due. Quindi tre, quattro, cinque, sei, sette, faccio un brangheiser da cinque. Cazzarola. Giusto? Un brangheiser da cinque. Un brangheiser da cinque. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un brangheiser. E poi... E poi terra l'ho fatta. Vado in discard e scarto... Scarto un... Disincantare. Non è più. Ok. Metti un po' il cellulare un po' più giù. Dani, così si vedono i punti di vita tui. Sì. 20 e 19. Perfetto. Anta? Scusami, 20 a 18. Vai. Perché uno di train e uno di brangheiser. Giusto, giusto, di... Di geiser. Sì. Anta? Sì. Draw. Sì. Perfetto. 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 Ho aggiungo 6,7. Appena fatto gas. Sì. Sette. Sette. Carte. Sette carte. Sette carte. Sette carte. Sette carte. Demoniaco. Che? Tutore. Tutore o demoniaco. Metti quelle in mezzo sopra le altre come vuoi. Perfetto. Penso che la cosa migliore da fare ora sia andare a 19. Sì. E dedicare una bella balanza ad Andreino. Sì. Quante carte hai in mano? Tre. Ok. Tengo queste tre. Direi... Scarto... Disenchant, disenchant e doppia landa. Ok. Vado? Vai. Stacco, pesco. Gioco una Mishra, attivo Mishra e ti picchio per tre. Ah, quindi pompi. Ok. 16. E vedo po' di che passo. Untap. Draw. Mare. Sì. Sei rendita. Sì. Genicolo. Ok. Passo. Penso un attimo. A fine tuo vorrei farci una spiga. E vorrei fare counter spell. Sì. Vado a 15. Ok. Stacco e pesco. Sì. Vado a 15. Sì. Stacco e pesco. Stacco un blu. Vorrei fare un gesto. Va bene. Va bene. Pesco uno. Pesco due. Va bene. Ho pescato tre. E carte in mano una. Una. Gioco terra di turno. Gioco una vulcanica. Prendo un danno. Vado a 17. Farei spiga sul Serendib. Eccolo. Vabbè. Tre a te. Però dopo ne prendi quattro. Perché t'attacco e vai a 14. Ok. E puoi andare. Antap. Sì. Draw. Energy Flux. Sì. Direi che va bene. Vai. Si automantiene l'anello. Stacco. E pesco. Gioco un mare. Allora. Carta in mano. Tu. Una. Animo. Doppia miscia. Sì. Picchierei per quattro. Prendo un danno di Brass. Vado a 13. Sì. Te ne vorrei disincantare una. Ok. Quindi vai a 11. E una ci saluta. Vai pure. Antap. Ci saluta il Mox. Certo. Pesco. Gioco. Anche io una Brass. Una Mesa. Sì. Una Pacto. Scusami. Va bene. E passo. Stacco. Si mantiene l'anello. Pesco. Gioco una Vulcanica. E ci ragiono un secondo. Un secondo. Un anno. Un anno me 그 16. Ti farei una Fireball da 5. Quindi vai a 6. mi fai una firewall da 3 4 5 6 da 5 da 5 che vado a 6 mai pure cazzo quanto stai testando pesco di turno devo passare passo tappo pesco tappo un danno a me vado a 15 tappo 5 faremo un serra e puoi andare pesco gioco factory vai stappo e pesco vorrei attaccare di angelo va bene quindi vai a 2 e vai a 2 e passo comunque in mano avevo un'altra firewall bro e abbo ma potivo mai essere che non tenevo tutta cosa abbo a me